ciao a tutti amici e benvenuti nel primo video del 2022 inizio il video ringraziandovi per il supporto che mi date costantemente sono veramente felice di quello che sto creando anzi di quello che stiamo creando perché comunque tutto quello che vedete è anche merito vostro mi lascio alle spalle un anno che mi ha dato molto ma mi apre la porta un anno che sicuramente mi darà molto ma molto di più questo amici ve lo garantisco ho tantissimi progetti tantissime cose in ballo di cui prossimamente inizieremo a parlare questo video però voglio dedicarlo a tutti voi infatti qualche tempo fa su instagram vi ho chiesto di scrivermi come messaggio privato qualsiasi cosa voi mi voleste chiedere tantissimi di voi mi hanno mandato e mi hanno chiesto un giudizio dei tatuaggi che portano addosso tanti di voi mi hanno chiesto un giudizio un parere dei tatuaggi che fanno quindi ora questo video lo dedico a tutti voi non dico che sta nascendo un nuovo format ma non dico neanche che non sta nascendo un nuovo format quindi partiamo ora con giovanni risponde la prima persona che mi scrive è gino e mi scrive parte superiore della gamba destra qua possiamo notare una leonessa un leone e dei leoncini quello che ti posso dire gino è che lavori così se mi segui se segui nel corso sai benissimo che io purtroppo non li amo ma non non li amo perché non mi piacciono ma perché comunque sono visti e strarivisti quello che ti posso dire però è che non sono sicuramente fatti male la sufficienza piena ce l'hanno alla grande stessa gamba dal ginocchio in giù già questo tipo di lavoro personalmente mi piace molto di più anche perché batman mi piace come film assolutamente ed è una cosa meno commerciale sicuramente quello che mi viene a chiederti a le ha fatti lo stesso tatuatore punto di domanda domanda cosa ne pensi le foto non rendono un granché sei un grande se fossimo stati più vicini mi sarei fatto tatuare a te guardo sempre i tuoi video grazie mille gino per seguire quello che faccio bello ti dico la verità ribadisco il concetto batman 100 volte più bello mio parere personale dei leoni anche perché non è assolutamente una cosa commerciale comunque gamba promossa pieno salvatore ciao artista tu usi nei tuoi capolavori 5 rl 9 soft magnum e 15 soft magnum giusto ma di che spessore sono 0 25 0 30 o 0 35 tenete conto che ovviamente c'è anche da fare questo tipo di considerazione perché comunque non è che gli aghi sono tutti uguali personalmente uso 0 35 passiamo ora al messaggio di daniele ciao giovanni io amo i tatuaggi in black work sono molto contento e soddisfatto di tutti i lavori che il mio tatuatore ha realizzato per me e con un menso piacere te ne mostro alcuni ripistrallo sul petto bello non è il mio genere però mi sembra fatto bene poi abbiamo una statua tagliata con un teschio poi abbiamo un tatuaggio dedicato al signore degli anelli e come sapete chi di voi mi segue sa benissimo che anch'io sono un patito e sto facendo un braccio intero tema signore degli anelli vi lascio qui nella schede in descrizione il video di massimo a cui faccio la prima seguita bugnada spettacolo anche questo perché comunque l'infanzia giocando a crash penso che l'abbiamo passata veramente veramente tutti chiede gli anni 90 sa benissimo di cosa stiamo parlando gennaro invece mi chiede come ti comporti per fare l'effetto pelo nel realistico e come procedi quando vai a lavorare sugli occhi tipo che aghi usi e lo ripeto per l'ennesima volta io personalmente uso sempre gli stessi aghi 5 round liner 9 soft magnum e quando necessario 15 soft magnum per quanto riguarda come ti comporti per fare l'effetto pelo ora vi aprirò un mondo e vi svelerò questo segreto assurdo per fare un bell'effetto pelo bisogna realmente andare a cazzo di cane cioè proprio a caso questo cosa vuol dire vuol dire che voi dovete fare pezzettino per pezzettino non avere fretta e poi a caso perché un pelo realmente non è che puoi ricopiare pelo per pelo dalla foto quindi devi fare una cosa che riesca a ingannare l'occhio per far sì che sia la più simile possibile dalla foto che tu stai copiando l'unica cosa che secondo me deve essere realmente uguale identica sono i toni di grigio quindi la scala di grigio della foto poi ci deve essere anche sul tatuaggio poi se un pelo va a destra al posto che a sinistra dal mio punto di vista non cambia niente per fare gli occhi io parto dalla pupilla che la coloro subito di nero poi mi tiro delle linee leggere sempre col nero e quindi ho realmente lo stencil tatuato e poi molto probabilmente lo lascio lì continuo tutto il resto ed è l'ultima cosa che faccio però gli occhi basta realmente copiare da una cosa molto molto semplice sempre gennaro mi fa un'altra domanda tu nel realistico diluisci i colori o li compri già fatti se sì quali e se li diluisci come fai allora io non compro colori già fatti non li compro perché perché comunque ho voglia di lavorare col mio modo cioè essere vincolato alla tonalità che fa una casa produttrice mi sembra non abbia senso la cosa migliore è con l'esperienza trovare la propria scala di grigi poi quello che faccio io è diluirli con acqua acqua del rubinetto acqua di una bottiglia non cambia niente ma non compro assolutamente cose per diluire il colore perché vi stanno vendendo praticamente dell'acqua e ve la stanno facendo pagare un sacco di soldi è il turno di nicola che mi dice voglio subito approfittare di questa occasione per sapere cosa pensi dei miei tatuaggi voglio dedicare tutta la parte destra al trash polka che è il mio stile preferito e chiederti cosa potrei fare sul gomito o sul bicipite per completare grazie mille io non sono amante del trash polka nel senso che non mi piace personalmente l'accostamento nero rosso non mi fa impazzire però non dico che sia brutto dico che non rientra nel mio gusto mi piace la geometria mi piacciono le scritte è che realmente il tuo tatuaggio è fatto bene non sono però soggetti che si fanno nel trash polka perché comunque il trash polka vuole determinate cose quello che vedo e che hai fatto con il tuo tatuatore è stato scegliere i soggetti e trasformarli e portarli con questo tipo di stile per l'amor di dio va assolutamente bene per quanto riguarda il gomito io farei una bella macchiona nera pennellata figa per dare un po di potenza al braccio e bicipite interno realmente non saprei cosa consigliarti forse mi viene in mente una bella scritta per riprendere quello che comunque hai sul petto spalla secondo me potrebbe star bene tieni conto che da quello che vedo ce n'è ancora tanto di lavoro da fare quindi sarò curioso di vedere il tatuaggio quando lo finirai ricordati di mandarmelo damiano mi scrive per il video che vuoi fare joe mi piacerebbe sapere cosa ne pensi del mio braccio nella prima foto è completo la donna con la tigre era già guarita mentre la luna e il lupo fatti da qualche minuto tra l'altro il lupo è stato cover appizzato perché quello che avevo prima non era granché nella seconda foto invece è la donna con la tigre poche ore dopo averlo fatto guardando la foto della tipa e della tigre appena fatta credevo che l'alone intorno fosse del rossore cioè fosse una sfumatura poi molto leggera si vede il rosso della pelle invece no quando sono andata a vedere la guarita quel rossore resta e quindi quello che vorrei sapere è hai anche del rosso del rosa in altre parti del tatuaggio perché sarebbe veramente veramente figo fosse così un'altra cosa che ti chiedo è ma l'avambraccio cosa hai sull'avambraccio perché comunque il lupo è esterno l'avambraccio cosa c'è che non si vede ora amici devo aprire una parentesi perché è il turno di Gaetano Gaetano è un collezionista cosa vuol dire un collezionista è un ragazzo una persona che si è fatto tatuare solo esclusivamente da tatuatori famosi ma non solo famosi perché sapete bene che io se uno è solo famoso mi ci pulisco abbastanza il culo si è fatto tatuare da persone famose e fortissime Gaetano l'ho voluto sentire anche in privato perché comunque ho riconosciuto ovviamente degli artisti che l'hanno tatuato e quello che posso dire è bravo Gaetano bravo 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 ce ne fossero di persone come te cosa ti devo dire tatuaggi tutti veramente veramente bellissimi ora c'è Paolino che mi dice mi fai sapere cosa ne pensi di questo mio tattoo ho visto la tua storia precedente siamo sempre su leoni quindi quello che ti dico è come dico tutte le volte a tutti soggetto purtroppo molto molto tatuato però c'è un però stavolta bravissimo grandissimo questa immagine tatuata non l'avevo mai vista quindi per quanto fosse tra virgolette è ovviamente in senso positivo banale un leone una leonessa riprendi tutti i punti che hai perso perché comunque hai scelto hai deciso di fartelo tatuare in una maniera in un modo che io personalmente non avevo mai visto quindi bravo mi è piaciuto sono curioso perché zoomando mi sembra che l'occhio della leonessa sia colorato è realmente colorato è verdolino come lo vedo io o è una mia impressione detto questo sarai curioso di vedere il tatuaggio guarito giuseppe mi chiede un mini video di come prepari i tappeti io penso che fino ad ora su pelle sintetica hanno provato di tutti quelli che si trovano su youtube e devo dire che è veramente una cosa che vada da tutore a tutore giuste tutte sbagliate tutte mi riallaccio alla risposta che ho dato prima sempre inerente ai tappini tantissimi di voi mi hanno chiesto giovanni com'è la tua scala di grigi come li diluisci non ho nessun tipo di problema a dirvi come li diluisco ovvero un tappino nero pieno quasi tutto pieno nero e poi acqua cinque gocce di nero tre gocce di nero due gocce di nero una goccia di nero poi tutta acqua ok ora che ve l'ho detto cosa avete risolto realmente niente perché la domanda fondamentale non me l'ha fatta nessuno e la domanda fondamentale è quanto cazzo è grosso il tappino dove metti il nero perché comunque se io metto un tappino largo così e ci metto una goccia di nero e poi lo riempio d'acqua non è la stessa cosa di un tappino così questa domanda però non me l'ha fatta nessuno di voi dove ciao giovanni ti stimo molto ti volevo chiedere se mi potresti dare un parere sui miei lavori ho iniziato meno di un anno fa allora vedo qua un primo disegno a bic e devi essere un po più leggero devi usare dei fogli adeguati quindi fogli ruvidi e spessi perché comunque l'inchiostro anche se non è liquido liquido quando ci passi tante volte ti fa piegare il foglio quindi più spesso è meno si piega e devi andare con più calma non rigacce ma passo passo questa rosellina riempimento mi sembra fatto bene quest'altro tatuaggio anche questo mi sembra riempito bene un aeroplanino di carta che ho sotto l'ombra di un aereo va bene anche questo qua c'è questo mino che corre linea leggermente incerta va bene ma si può fare assolutamente di meglio tira pugni comunque mi sembra abbastanza preciso questa farfalla teschio si vede abbastanza maluccio quindi quello che ti consiglio io è anche la foto falla meglio perché comunque sicuramente il tatuaggio rende di più però una cosa la voglio dire sia a te che a tutti quelli che stanno guardando questo video prendete esempio da lui ovvero non fa cose al di fuori della sua portata non mi ha mandato pezzi realistici ha detto che tatua da meno di un anno però non ha mai fatto lavori al di fuori delle sue capacità il nostro amico Jacopo Scorzoso molto presente e fan attivo di tutto quello che faccio quindi grazie mille Jacopo mi fa davvero piacere che tu mi abbia scritto ciao Giovanni per il video ti mando una foto di un mio tattoo che già ti ho fatto vedere però vorrei essere sul tuo video dammi un tuo parere un koala geometrico fatto sulle costole il primo tattoo che mi sono fatto il koala per me ha un grandissimo significato allora Jacopo quello che ti posso dire è per essere fatto sulle costole linee veramente veramente precise belle e precise ci sta nel complesso è bello anche la sfumatura puntinata mi piace un sacco bravo mi fa piacere poi anche comunque dietro questo tatuaggio ci sia un significato molto importante per te Marco invece mi chiede parla della differenza tra macchinette per chi inizia da zero è utile ci sono pochi video italiani sulla differenza fra rotativa e a bobina allora ovviamente qua si apre un mondo perché qua comunque dobbiamo parlare realmente del tatuaggio a 360 gradi e questa qua è proprio la base 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 due informazioni molto veloci una macchinetta rotativa è una macchinetta con un motorino un eccentrico quindi il motorino gira fa girare l'eccentrico e l'ago batte su pelle la macchinetta bobina invece per chi non lo sapesse per chi non l'avesse mai aperta queste bobine cosa sono? Sono bobine di rame quindi ci sono degli avvolgimenti di rame quindi una spirale di rame a cui è saldato un piccolo condensatore e poi c'è la macchinetta vera e propria la macchinetta bobina dal mio punto di vista è molto più semplice da usare rispetto a una rotativa soprattutto per chi ha le prime armi e vuole tirare delle linee belle decise Marco Pardi Giovanni sono un tuo fan e sono pure un aspirante tatuatore vorrei chiederti il perché quando tatuo il colore non è scuro come voglio una volta guarito grazie mille mi saresti aiuto Marco allora dipende da come saturi la pelle quindi che aghi usi che macchinetta usi da quanto tempo lavori e quanta esperienza hai ma soprattutto da che nero usi io personalmente uso black mamba per fare il nero pieno uso il tribal e ti garantisco che rimane molto molto nero quindi ripeto non so che nero stai usando se lo provi sicuramente rimarrà scurissimo Mario Bruno ciao Giovanni ti scrivo per la rubrica praticamente il tatuaggio l'ho fatto il 511 ancora è appannato e pieno di groste migliorerà a breve? perché sta servendo tutto questo tempo? perderà colore o migliorerà la definizione? Mario come potete vedere mi ha mandato una foto del tatuaggio appena fatto una foto del tatuaggio guarito la risposta alla tua domanda è dipende dal tipo di pelle perché comunque io posso cicatrizzare più velocemente di te questo è il fattore determinante tieni conto che come si può vedere nella foto del tatuaggio guarito sta cicatrizzando evidentemente tu ci metterai un po' di più non perde più il tatuaggio ti rimarrà così perché quando sta cicatrizzando che c'è questo lucido sopra ormai il tatuaggio ha quei toni di colore e rimarrà proprio così non cambierà più vedo che il tatuaggio è da finire sono curioso di vederlo finito Omar ciao Giovanni a me piacciono i tatuaggi traditional il primo l'ho fatto a marzo e il secondo la donna settimana scorsa allora guardate che bomba che bomba vuol dire che i tatuaggi tradizionali quando sono fatti bene e quando guariscono rimangono veramente veramente bene con una marcia in più poi il tradizionale come sapete a me piace veramente veramente tantissimo quindi che dire Omar belli mi piacciono Nicolò Nicolò apre un mondo sentite qua si fa amputare due dita naso orecchie e labbra per assomigliare a un alieno questo qua amici si chiama Black Alien Project se lo volete cercare su Instagram vi lascio anche il link in descrizione non ho parole tanti di voi mi hanno chiesto perché ho pubblicato delle storie inerenti di fare dei video al riguardo alla body modification nooo non me la sento non me la sento nel senso che parlare di tatuaggi tatuaggi che fanno schifo tatuaggi fatti di merda tatuaggi che fa mio cugino e tutto cazzo fa ridere cioè fondamentalmente c'è quel velo ironico che mi piace questo qua no la body modification realmente non mi piace cioè non mi farai mai niente una cosa che potrei sopportare tra virgolette sopportare ovviamente perché poi ognuno è libero di fare quello che vuole è la lingua tagliata ma impianti orecchie tagliate dita tagliate no 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 poi mi fanno senso non ce la posso fare però facciamo così se questo video arriva a 600 no 500 sono po' 600 mi piace giuro guardate qua vi metto un paio di foto vi porto un video e vi racconto chi è Black Alien Project quindi io non lo voglio fare non mettete mi piace assolutamente perché non dobbiamo arrivare a 600 mi piace preferirei davvero non arrivarci ve lo giuro vi do questa sticella decidete voi se cliccare o meno se sapere o meno è tutto nelle vostre mani anzi è tutto in un vostro dito e poi mi dice sempre Nicolò un video sulla gente che si tratta il proprio amore per la squadra o lo sportivo del cuore io a breve dovrò realizzare un tatuaggio fighissimo uno Zlatan Ibrahimovic che resta la maglia del Milan ovviamente non vedo l'ora di realizzarlo quindi potrei prendere uno spunto per farci un video grazie Nicolò che mi hai dato questa idea Francesco apre un'altra discussione molto molto interessante e da esperto esperto amante del tatuaggio perché mi chiede cosa ne pensi della scena graffiti Italia Europa inoltre cosa ne pensi della scena graffita unita ai tatuaggi come per esempio Lugosis Estrato con OAS oppure la scena WCA sai il top continua così allora personalmente cado leggermente nell'ignoranza in questa domanda perché amici già non è che posso sapere veramente sempre tutto di tutto allora Lugosis lo seguo su Instagram è un pazzo in quello che fa cazzo è veramente il numero uno fa dei tatuaggi pazzeschi mi piace tantissimo gli metto sempre mi piace quando vedi i suoi post mi farei fare anche un tatuaggio da lui strato non so chi sia OAS non so cosa voglia dire WCA purtroppo non so neanche cosa voglia dire quello però mi piace tantissimo la scena graffiti mi piacerebbe farli mi piacerebbe magari anche realizzare un video dove vado a dipingere un muro mi manca il tempo quello che mi piace veramente tantissimo del graffito è l'illegalità la criminalità che c'è dietro il farlo veloce di nascosto per non essere beccato quella è la cosa che amo dei graffiti Fabian mi dice ecco il materiale per il video mi manda tutti i suoi tatuaggi e quello che devo dire di Fabian è che le persone così a me piacciono piacciono perché comunque non vedo cose che si fanno tutti e queste sono le cose che amo non vedo cose banali e stratatuate o andate di moda questo stile mezzo stencil di come ti sei fatto questi due volti mi piacciono vorrei sapere chi sono che volti ti sei tatuato amici mi fa davvero tantissimo piacere che voi vogliate la mia opinione riguardante i vostri tatuaggi i tatuaggi che avete fatto o che voi vogliate dei consigli da me perché questo mi fa capire che comunque mi prendete realmente in considerazione vi chiedo di seguirmi su Instagram se non lo state ancora facendo perché così potrete chiedermi anche voi futuristicamente un qualcosa per un prossimo video ovviamente iscriviti anche al mio canale accendi la campanella a 10.000 iscritti farò un annuncio realmente importantissimo manca poco arriviamo a questo benedetto traguardo ci vediamo la prossima settimana ciao 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 ciao